Bene, benvenuti allora a questa edizioncina, a questo incontro di building, facciamo una famosa sedia. Allora la sedia come vedete può venire in molti modi diversi, ognuno viene in modo personale e quindi più o meno la struttura è la stessa, sono quattro gambe il piano, due porzioni per dietro e lo schienale e proviamo a vedere se riusciamo a ricostruirla. Nel frattempo vedremo che darò qua anche un piccolo consiglio. Quindi intanto mettiamoci pure alle estremità in modo inavvertitamente non andiamo in edit e ci mettiamo praticamente verso il fondo in modo tale da non comprendere delle cose che non sono nostre con il Rycast, perché il Rycast va all'infinito, quindi se becca qualcosa ce lo dice e ci funziona male. Ok, parliamo pure grossi, quindi cerchiamo di realizzare una cosa tipo questa. Vedete che adesso è tutta unita insieme, è aggruppata, ma noi partiremo con un semplice cubo come al solito, partiamo con il cubo soft, è praticamente un cubo con i bordi leggermente arrotondati, lo mettiamo, ci mettiamo, come vedete abbiamo attivato questa modalità, togliamo il menu, selezioniamo fuori in modo tale da non riselezionare il cubo, però vedete che non è selezionato niente, dobbiamo esercitarsi molto in questa cosa e poi vedete che quando abbiamo il magneto attivato, quando selezioniamo l'oggetto compaiono una serie di palline gialle, gialle, arancio, ok? Oltre al solito. Quindi noi intanto prendiamo questa cosa qua e l'alziamo, adesso vi spiego qua sono le palline, quindi portiamola un pochino in alto, ok? Ok, quindi abbiamo fatto per dire un piolo della parte bassa. Ora, per fare l'altro piolo praticamente cosa facciamo? Facciamo la duplica, quindi ci mettiamo qua, facciamo duplica, selezioniamo il nostro oggetto e con la fraccina duplichiamo, per esempio mettiamo qua. Ok, notate che tra l'altro qui è cambiata l'icona, nel senso che possiamo eventualmente anche mettere, cliccare questo e quindi spostarci il... adesso sta duplicando a go-go, quindi torniamo alla... cancelliamo questo in più, torniamo a questa, vedete che se prendiamo questa... questa cosa ce la spostiamo in giro con il... il coso, ok? Quindi supponiamo che vada bene così, ok? quindi adesso selezioniamo le due... le due gambe, pezzi di gamba, quindi come facciamo? Da fuori facciamo trigger, poi eventualmente possiamo aumentare questa dimensione in modo da essere più precisi nel selezionare e poi andiamo in mezzo e ci spostiamo. Ecco, ah no, dobbiamo farla ovviamente in duplicazione e facendo sempre questo modo a questo punto possiamo fare la duplicazione, vedete che compare sul verde, ci dice che stiamo duplicando e duplichiamo praticamente a questo livello, facciamo... facciamo... ok, abbiamo quella cosa lì che avevo fatto vedere prima che se clicchiamo praticamente ci permette di muovere più piano, insomma possiamo fare un lavoro di precisione, quindi... allora qui è sempre duplicato, quindi cancelliamo, andiamo qua, dobbiamo selezionare sempre il doppio, andiamo dentro, facciamo il nostro... come vedete ci sposta di uno, poi atteniamoci di uno, ok? Allora atteniamoci di uno, dobbiamo mettere il pezzo sopra. Ora, per il pezzo sopra, la cosa che è importante, prendiamo il menù, questo, prendiamo un cubo e dobbiamo metterci praticamente il cubo sopra, sopra, qui sopra, in modo tale da dobbiamo far diventare il cubo, intanto lo facciamo diventare, quindi lo, praticamente lo espandiamo un pochino, ok? E poi lo espandiamo anche di qua, e poi lo spostiamo, abbiamo dato da metterlo sopra. Adesso mettiamolo sopra così, perché facciamo una cosa semplice, ci sono modi più complicati, comunque speriamo che così vada bene. Adesso dobbiamo fare lo schienale. Allora, per fare lo schienale selezioniamo i due pezzi, questi, lo doppichiamo, prendiamo i due pezzi che abbiamo preso, vedete che abbiamo presi magari inclinati, ma teniamoli pure dritti. Ok. Abbiamo duplicati, ma adesso ci prendiamo questa cosa qua. Ecco, vedete che una volta che selezionano diventano non più arancioni, ma diventano sul blu, per dire che abbiamo selezionato, quindi possiamo praticamente prendere questo e spostare questo. Quindi spostare questo, vedete che il centro, ci mette il centro, in modo tale da allinearlo con l'oggetto sottostante, più o meno. Qui bisogna essere... Eh? Se vogliamo essere precisi, allora cosa facciamo? Spostiamo qui in avanti, questo, vedete che non va molto bene come cosa, scegliamo il movimento lento, quindi diventa blu, quando è blu possiamo spostarlo lentamente, quindi possiamo metterlo dove vogliamo. E quando è blu possiamo farlo anche sulla cosa, quindi facciamo diventare blu e quindi giriamo qua, sentiamo su, ok? E qui abbiamo lo schienale. Per finire lo schienale dobbiamo mettere praticamente il... Abbiamo detto questo, ok? Ok? Però questo qui lo facciamo... Intanto lo dobbiamo fare un attimo dritto, ok? Così. Poi dobbiamo farlo un pochino delle dimensioni che potrebbero interessarsi, quindi questo. Lo mettiamo praticamente sulla schienale, nel punto opportuno. Vedete che diventa difficile allineare gli oggetti con il grid, quindi lo allineiamo a manina, così. Vedete che va piano, cioè va a mezzo metro per volta, noi facciamo, diventiamo verde e quindi possiamo appoggiarlo come vogliamo. Facciamo la stessa cosa quel qua. Vedete che c'è lo stesso problema. Lo facciamo diventare blu, quella cosa lì. E poi, quindi abbiamo messo questa cosa qua, la possiamo fare anche... Vedete che diventa troppo, però noi facciamo sempre modalità fine e facciamo anche queste modalità fine, ok? Quindi facciamo questo, ok, fine, ok, in modo tale da avere la sedia lì a posto, ok? Poi possiamo anche girare la sedia. Allora, a questo punto il build possiamo toglierlo, perché abbiamo finito di costruire questa brutta sedia. Però vedete che le altre sedie che avevo fatto le posso postare come fossero tutt'uno, invece queste sono ancora spezzi singoli. Quindi cosa faccio? Vado prima, premo il grilletto, espando leggermente questo coso, questa sfera col più, e poi vado a selezionare tutti i componenti in modo tale che diventa praticamente... Vedete che mi ha selezionato anche per errore il piano, quindi togliamo il coso, Torniamo a selezionare, quindi facciamo... Ok, mi fa tutti i beep, mi ha selezionato. Quando è selezionata così possiamo fare il gruppo, il gruppo sarebbe questo, e facciamo gruppa, la copriamo insieme, quindi a questo punto possiamo tranquillamente muoverla insieme. Ok, quello che manca adesso è metteregli un colore, il colore è una delle cose più facili, quindi possiamo colorarla tutta di un colore, quindi andiamo sul pennello, e prendiamo i colori, andiamo a fare il rosso, clicchiamo il rosso, e quindi col pennello rosso andiamo dentro e lo facciamo col click e diventa rossa. Ok, quindi questo è una sedia, come avete visto l'ho fatto vari modelli di sedia, ognuna viene diversa, la sedia, se ci va bene così, la possiamo copiare, duplicare, oppure metterla negli asset. Cosa significa metterla negli asset? Vuol dire che mettiamo la proprietà, vedete che qua abbiamo la proprietà della sedia, e la sedia possiamo, a parte che abbia il nome, quindi possiamo, possiamo cliccare qua, cancelliamo tutto, e facciamo, ok, mettiamola, mettiamola, vedete che anche gli oggetti si muovono e seguono, ecco, che è più consono, facciamo s, e, di, a, magari, tutta minuscola, sedia, due, quindi la riconosciamo che è stata lei, facciamo enter, quindi si chiama sedia due, e poi vedete che abbiamo un po' di cose, quindi possiamo scrupparla, oppure possiamo anche metterla negli asset, negli asset, vuol dire che la facciamo new asset, lui ci permette di metterla dentro il folder my assets, adesso vi faccio vedere come si vedono i miei assets, e si può fare fondamentalmente anche una foto, allora, per fare la foto, prendiamo la sedia, il nostro semilavorato, e mettiamola un po' da sola, ok, e poi facciamo thumbnail, choose, take photo, prendiamo una foto, e la foto la facciamo della, più o meno della sedia, che abbiamo fatto, bellina, quindi triggeriamo, e molto fuori, ecco quella è la foto della sedia, se ci piace, facciamo looks good, quindi compare la foto della sedia, e facciamo create, sedia due, e a questo punto la sedia diventa parte del nostro asset, per togliere questa, per, ok, asset create, close, e facciamo x, ci biega un attimino di tempo, gli assets li troviamo praticamente, in questa finestra qua, vedete che ci sono le forme, abbiamo gli assets, e negli assets, vedete che non passa la sua sedia due, e quindi abbiamo fatto a questo punto le nostre sedie, quindi abbiamo memorizzato questa e questa, se vogliamo possiamo mettere questa sedia 3, quindi clicchiamo questa, rifacciamo il mestiere, ah no, dobbiamo dargli un nome, quindi mettiamo qua, e gli mettiamo, sedia 3, entra, diciamo new assets, come ho fatto prima, sedia 3, facciamo ancora la foto, per fare la foto dobbiamo, ovviamente, in un posto in cui è fotografabile, diciamo, ok, questo, questo lo generiamo per vederlo bene, le proprietà, thumbnail choose, take photo, e qui abbiamo, per esempio, della possibilità di fotografarla, eccola lì, looks good, va bene, facciamo close, e a questo punto la sedia è pronta, e ce l'abbiamo anche nell'inventory, quindi se guardiamo l'enco delle cose di inventariato, abbiamo sedia 3, come vedete, facciamo assets, non ha preso il coso, edit assets details, quindi la, probabilmente non ci abbiamo fatto, facciamo thumbnail, choose, take photo, rifacciamo la foto, come prima, ok, abbiamo looks good, adesso, vedete che la foto è comparsa, facciamo update, forse prima c'è l'equivalente di questo update, facciamo l'update un po' di volte, in modo tale che adesso abbiamo le tre sedie, quindi in questo modo possiamo fare gli assets nostri, che possiamo duplicare quante volte vogliamo, e metterli in tutti i mondi che vogliamo, e averlo nella cartella degli assets, e questo diciamo è tutto.